You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true, I saw your face... Belle e brave, in tutti i sensi, le ragazze del Valdarno Volley che in occasione della presentazione ufficiale della squadra al pubblico filinese hanno anche evidenziato sulle maglie la sponsorizzazione dell'ospedale Mayer. Una vicinanza che ai piccoli degenti sarà costante durante la stagione, ma se nell'ambito sociale c'è spazio per la beneficenza, questa stagione rappresenta anche la crescita tecnica e delle ambizioni del sudalizio, che non nasconde quindi la voglia di raggiungere i play-off. Questa stagione è ormai la quarta stagione, speriamo di ripeterci, se non di superarci, abbiamo fatto una bella squadra, abbiamo avuto una bella iniziativa con la solidarietà per il Mayer, per cui tutti gli auspici sono buoni, poi il campo ci dirà se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto poco bene. Ci dobbiamo aspettare un buon campionato, la squadra è una buona squadra, cercheremo di fare il possibile per raggiungere questi benedetti play-off. Credo che la cosa più importante da aspettarsi è che il gruppo, come già ha iniziato da due settimane, lavori con intensità, con serietà e con impegno e poi da quello, sicuramente dal lavoro in palestra con questo gruppo possiamo costruire sicuramente delle buone cose. Siamo ancora nella parte comunque speciale, ma della preparazione fisica, quindi rispetto a quello che è il campo siamo sicuramente un po' indietro, ma questo lavoro che facciamo adesso, lo facciamo in questo momento, dopo non è fattibile. Il primo impegno è con la Coppa Italia, il 15 di settembre, giochiamo in casa, sarà il primo appuntamento in cui noi ci presentiamo per la prima volta sul campo, non farò amichevoli in precedenza e iniziamo da lì.